Secondo me mirano a stufare la gente, tra l'altro a me mi hanno anche detto signora se sta meglio, che non vuole aspettare, tu puoi tornare domani mattina, ma allora scusi, cioè è come se ti dicessero, se vai via ci fai una cortesia, non va bene. È una situazione disastrosa, questo il pensiero della signora Anna Maria dopo essere stata sei ore al pronto soccorso del Santa Croce di Fano. Arrivata al nosocomio ieri sera alle 21.30 a causa di una caduta in bicicletta, oltre ad avere delle ferite ad una gamba era preoccupata per eventuali fratture, visto il forte dolore che provava in particolare ad una spalla. Ma ad oltre al suo stato di salute, quello che l'ha colpita è la lunga attesa di una giovane tedesca, arrivata alle 14.30 per una ferita da taglio. Stava lì ad aspettare che qualcuno gli mettesse i punti, con me c'era mio figlio, si è arrabbiato, ha bussato, ha detto ma che figura ci facciamo con il resto del mondo per mettere due punti e tenere quasi 12 euro una persona qui, secondo me è cattiva organizzazione, non è possibile. L'hanno chiamata subito, è stata dentro due minuti e ha ringraziato in inglese mio figlio perché non ne poteva più. Anna Maria inoltre lamenta il fatto che in tutto l'ospedale non sono riusciti a trovare nemmeno una bottiglietta d'acqua. Non si riega a bicchiere d'acqua nessuno, girate tutte le macchinette e non c'era una goccia d'acqua. L'ospedale poi è in centro ma per modo di dire, perché comunque deve avere qualcuno che deve prendere l'acqua in un bar, insomma sono state lì fino alle 3 di questa notte. L'infermiere che cosa le ha detto in particolare? L'infermiere mi ha detto che appunto il 75% che viene qua non ha niente, come lei non ha niente di rotto. Io ho detto ma lei come si permette, io se non venivo qua a quest'ora, come facevo a sapere se avevo una frattura da qualche parte? Anche perché prima poi di potermi fare una lastra dovevo almeno, vabbè ok, potevo andare a pagamento, ma io lì per lì un'ematoma della Madosca con il ghiaccio che già mi avevano dato dove ero caduta. Insomma stavo male da morire, non riesco a reggermi in piedi tutt'ora, oggi è il mio primo giorno di ferie. Insomma a un certo punto io penso che loro, è vero che sono carenti come personale, ma secondo me non sono neanche organizzati, perché una ragazza per mettere un po' di colla che ci hanno messo due minuti non è necessario farlo aspettare fino alle due di notte, è solo male organizzazioni.